Armando incarnato di Uomini e Donne, chi l'ex fidanzata Jeannette, età, lavoro, vita privata. Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Il dating show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del throne over, ma anche giovani. Tra tronisti e corteggiatori, che sono lì con un unico obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Armando incarnato, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del throne over. Che oggi ritornerà sotto i riflettori, tra non poche polemiche, ci sarà il confronto con Gianni Sperti e Maria De Filippi. Poi l'opinionista tirerà fuori la sua ex compagna Jeannette. C'è ancora una storia d'amore tra i due. Jeannette è l'ex fidanzata di Armando incarnato, uno dei cavalieri del throne over di Uomini e Donne. Di lei non sappiamo molto. In passato, però, ha avuto una storia d'amore lunga circa 5 anni con Armando. La donna era già stata ospite di Maria De Filippi, era intervenuta tempo fa in studio per spiegare il suo rapporto con l'ex fidanzato e permettere a tacere tutte le voci. Io e Armando non stiamo insieme da due anni e mezzo ma abbiamo un progetto lavorativo insieme aveva spiegato la ragazza. Che nel 2020 era ritornata nel salotto perché secondo molti i due, durante la quarantena per via della pandemia, si incontravano. Jeannette Roas, così fa di cognome, ha più o meno 30 anni, ma non abbiamo altre informazioni. I due, come già detto, sono stati fidanzati per 5 anni, poi si sono incontrati per un progetto lavorativo. Ma non hanno più condiviso niente. Se non le polemiche e le segnalazioni che per diverso tempo li hanno visti ancora insieme. Al punto che a Gianni e Tina arrivano spesso messaggi che non lasciano spazio a dubbi, i due sono ancora fidanzati. Eppure Armando oggi, come fa da anni, cercherà di difendersi, e singole, non ha mai partecipato a nessun provino per il GF VIP. Non c'è nessuna donna nella sua vita. E vuole innamorarsi. Non mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja. Arunca-ti toate visele într-o geantă și pleacă. Nu grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus. Hai mei, hai mei, hai mei, hai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascunz, pot să mă duci tot. Ma, su, u, 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 u.